di bala all'inter è ancora possibile oppure no ma soprattutto di bala all'inter è un'opzione ancora sensata oppure no dopo l'arrivo di romero lukaku e soprattutto vista la composizione dell'attuale attacco dell'inter spoiler io sono ancora convinto che di bala arriverà all'inter e sono ancora convinto anzi oggi forse ancora di più che sia un'operazione molto più che sensata lo dico per vari motivi e secondo me un aggiornamento oggi sulla questione di bala era doveroso per forza di cose perché di bala è inevitabilmente il nome dell'estate almeno per quanto riguarda il mercato italiano giocatore importantissimo che ha lasciato la juventus piace all'inter già basterebbe questo per infiammare le voci ma stiamo parlando anche del calciatore che dati transfer market alla mano è quello con il valore di mercato più alto tra i vari calciatori che attualmente sono liberi senza contratto ed in cerchio è una nuova squadra questo è un dato che si presta dall'altra parte da quello che leggo anche nei commenti anche a delle contraddizioni oppure diciamo così che fa riflettere molti tifosi che mi dicono ma se è così forte se vale così tanto perché ancora è senza squadra arrivati al 15 luglio ed è un'obiezione che capisco perché in effetti è strano che un giocatore così sia ancora senza squadra al 15 luglio però in realtà neanche troppo perché innanzitutto il mercato si sta rivoluzionando lo abbiamo detto più volte abbiamo parlato con diversi operatori di mercato lo ha detto lo stesso Beppe Marotta pochi giorni fa sono delle dinamiche diverse quelle che stiamo vivendo in questa fase del mercato e tra l'altro piccola considerazione lo abbiamo raccontato anche in una delle scorse dirette se andiamo a scorrere l'elenco di tutti i calciatori senza contratto ancora ad oggi ancora in questo momento troveremo oltre al nome di Paolo Di Bala altri nomi piuttosto forti ne faccio alcuni a caso Christian Eriksen oppure Andrea Belotti Jesse Lingard oppure Bernardeschi o Luis Suarez ma ce ne sono veramente tanti e sono nomi che francamente farebbero comodo a più di una squadra ne sono abbastanza sicuro senza tra l'altro andare a ritirare fuori il caso Messi perché ricordiamoci che anche Messi nel 2021 è passato al PSG soltanto il 10 agosto quindi a tutto questo e a tutte queste considerazioni aggiungiamo poi anche un retroscena di cui abbiamo già parlato ovvero che Di Bala in realtà avrebbe potuto già essere dell'Inter avrebbe potuto già essere in una nuova squadra dopo la scadenza del suo contratto se solo avesse accettato la proposta dell'Inter prima che si aprissero gli spiragli per il ritorno di Lukaku in Erazzurro però il temporeggiare di Di Bala e del suo entourage soprattutto e poi l'arrivo di Lukaku hanno portato fino a questa situazione che stiamo vivendo oggi una situazione in cui però l'ipotesi Inter non è tramontata e anzi tra i motivi per cui al 15 luglio Di Bala è ancora senza squadra sicuramente in primo piano metto proprio l'Inter facciamo però adesso un punto della situazione con le varie notizie anche delle ultime ore poi devo lanciarvi necessariamente una provocazione e vi darò anche una mia opinione per avere un confronto su questo tema e non solo prima però se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi subito il nostro al nostro canale sosteneteci stiamo per raggiungere i 40.000 iscritti su YouTube quindi mi raccomando correte subito in questo modo tra l'altro non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti gli approfondimenti l'analisi tutte le notizie le dirette ogni giorno e i nuovi format che stiamo lanciando che state già iniziando a vedere che sono molto molto apprezzati quindi mi raccomando clicca subito sul tasto iscriviti dicevo delle notizie però notizie che in realtà come vi avevo anticipato all'inizio di questa settimana non sono cambiate più di tanto in questi giorni non ci sono state grossissime evoluzioni se non che Di Bala è tornato in Italia e nel frattempo molti quotidiani siti vari altri giornalisti stanno spingendo fortissimo su Di Bala verso altre squadre al di fuori del mondo inter addirittura nelle scorse ore è spuntato se non sbaglio sul Corriere dello Sport un retroscena secondo cui all'Inter solo Marotta sarebbe così convinto di prendere Di Bala mentre Inzaghi e non solo non sarebbero così convinti questo dice il Corriere dello Sport tanti comunque stanno spingendo almeno da quello che vediamo in queste ore in direzione Roma per quanto riguarda il futuro di Di Bala mentre nel frattempo ha parlato dall'Argentina anche il vice presidente dell'Inter a via Zanetti che di fatto ha ripetuto le stesse frasi di Marotta Marotta che aveva già parlato ma ripetendo queste frasi secondo me Zanetti ha dato un'indicazione che ormai abbiamo capito tutti ma che comunque interessante va ribadita ovvero ve la rileggo perché mi sono appuntato le parole per non sbagliare eccoci qua Zanetti dice come ha già detto il nostro amministratore delegato quindi Marotta Di Bala è un'opportunità perché si tratta di un calciatore libero e anche qui è un'opportunità dice Zanetti ma oggi l'Inter ha Lautaro Lukaku Sanchez Dzeko e Correa e penso che faremo la preparazione con questi calciatori poi in avanti le cose possono cambiare ma per il momento stiamo bene così queste sono parole di a via Zanetti che arrivano dall'Argentina per il momento stiamo bene così questa frase secondo me è un po' la sintesi di quello che diciamo da settimane tradotto servono delle cessioni per poter far spazio a Paolo Di Bala nell'Inter e oltre alla questione Pinamonti che è entrata nel vivo quindi attenzione perché le cose si stanno muovendo attorno anche ad Alexis Sanchez quindi effettivamente l'Inter sta cercando di creare questo spazio per Di Bala e questo per me è sicuramente un ulteriore indizio di come l'Inter la pista di Bala l'abbia tutt'altro che mollata un po' un indizio un po' i sci anche con quelli che continua a seminare anche Marco Materazzi che continua a pubblicare pallini nerazzurri sotto i post Instagram di Paolo Di Bala comunque come vi ho detto subito dopo l'incontro che abbiamo avuto nella sede dell'Inter dove abbiamo avuto modo di parlare con i dirigenti e non solo Inzaghi e Marotta ci hanno di fatto detto che vogliono per questa Inter un reparto d'attacco composto da quattro calciatori forti ed affidabili più un giovane da poter valorizzare alle loro spalle che sarebbe di fatto il quinto attaccante per raggiungere questo obiettivo integrando anche Di Bala al reparto offensivo il conto lo abbiamo fatto più volte ma lo aggiorniamo ovvero deve andare via Alexis Sanchez bisogna vendere Pinamonti che potrebbe essere un'operazione sbloccabile nelle prossime ore e poi va piazzato anche uno tra Dzeko e Correa per i quali però al momento si registrano voci ma nulla più di voci almeno fino ad ora questa è la versione ufficiale dell'Inter e allora su questa versione ufficiale io però faccio la prima provocazione ma non è che sotto sotto in realtà siamo di fronte alla prima bugia bianca dell'estate di Marotta perché lo stesso Marotta tra l'altro sempre in un legato a Di Bala parlò ad inizio estate di bugie bianche e finora in realtà mi è sembrato tutto molto lineare non ho visto grandi depistaggi da parte della dirigenza dell'Azzurra e allora io mi domando ma non è che siamo di fronte effettivamente oggi alla prima bugia bianca da parte del mondo Inter e allora se questa è la prima bugia bianca io butto lì la mia ipotesi ovvero non è che sotto sotto anche qui si sta concretamente pensando di chiudere questo mercato con cinque attaccanti forti e non quarto e non quattro almeno fino a gennaio perché dico almeno fino a gennaio perché intanto le esigenze di bilancio come sappiamo non sono impellenti subito le esigenze di bilancio sono slittate al 2023 si faranno più pressanti nel 2023 diciamo così e poi altra considerazione secondo me molto importante da fare non dimentichiamoci che nei tre mesi che vanno dal 13 agosto al 13 novembre l'Inter dovrà giocare di fatto 20 partite e saranno 20 partite che indirizzeranno o quasi il campionato perché si giocherà gran parte del girone d'andata ma soprattutto saranno decisive per la Champions League perché si giocheranno tutte e sei le partite per il girone di Champions prima della sosta che lascerà spazio ai mondiali e sappiamo benissimo lo abbiamo vissuto sulla nostra pelle ma non solo quante energie servono innanzitutto per affrontare dei cicli di partite così ravvicinate e così importanti e soprattutto sappiamo anche quanti soldi e quanto prestigio porta il passaggio del turno in Champions League quindi sulla base di questi fattori attenzione a questa provocazione ma ne aggiungo un'altra anzi più che provocazione attenzione a questa considerazione della possibilità e dell'opportunità anzi dal mio punto di vista di andare con 5 attaccanti forti e non 4 già in passato ne abbiamo avuti 4 per me siamo sempre stati un po corti in attacco e non vorrei ricommettere lo stesso errore di nuovo dicevo però che devo lanciarvi una provocazione ve lo avevo anticipato in apertura la seconda ma quella più importante sulla quale voglio confrontarmi con voi è proprio questa ovvero voglio chiedervi voglio chiederti andare a prendere di bala oggi per l'Inter è quindi una necessità un'opportunità oppure è la ciliegina sulla torta del mercato dell'Inter voglio sapere la tua opinione nei commenti io nel frattempo ti dirò la mia vi dirò la mia cercherò però di non influenzarvi cioè non fatevi influenzare da me ovviamente ma dal mio punto di vista credo che la priorità per l'Inter oggi sia Bremer ed è a prescindere dal discorso screener psg a livello progettuale secondo me un difensore come Bremer è prioritario per tanti motivi detto questo però su di bala io fino a pochi giorni fa ho sempre pensato che fosse un'opportunità da cogliere ma come ciliegina sulla torta diciamo che la mia bilancia pendeva quindi dal lato ciliegina sulla torta quindi opportunità in questo senso vista l'età quindi del calciatore viste la voglia di rivalza dopo l'addio alla juventus e le qualità tecniche tutto mi faceva pensare a questo in questo momento però mi trovo ad aggiungere a queste considerazioni anche ulteriori dettagli che stanno cambiando un po il mio punto di vista e soprattutto mi stanno portando a dire che di bala va assolutamente preso questa è la mia opinione lo dico innanzitutto perché se guardo all'attacco che abbiamo oggi vedo un lautaro martinez che ad oggi è blindato sta benissimo all'inter lo continuo a ripadire però sappiamo bene che è puntualmente al centro delle voci di mercato ed ogni volta che si riapre il mercato si riparte tanti club molto importanti molto ricchi pronti ad entrare in azione quindi io ecco senza voler allarmare nessuno però non ci metto ad oggi la mano sul fuoco su una permanenza da qui ai prossimi quattro anni di lautaro martinez nell'inter per le tante cose che abbiamo visto in questi anni e per la quantità di grandi club ricchi interessati all'autaro martinez romero lucacu è appena rientrato in prestito sicuramente ci sarà una sorta di promessa per riparlarne tra un anno della possibile permanenza di lucacu all'inter ma comunque ricomprarlo tra un anno costerà comunque tantissimo e ci sono poi tante variabili da considerare attorno al futuro di lucacu esempio se all'inter fa benissimo quest'anno e all'improvviso al termine della stagione si inserisce un altro club ricchissimo con una valanga di soldi per il calciatore per il celsi che succede se per assurdo al celsi torna all'improvviso antonio conte e decide che lucacu deve rimanere a londra e lo vogliono rivalorizzare di nuovo al celsi che succede ecco sono scenari difficilissimi però non vanno scartati assolutamente ci sono poi alexis sanchez ed edin gecko per i quali parla la carta identità per entrambi c'è joaquin correa che per ora è un oggetto misterioso ha fatto vedere delle cose interessanti già nelle prime uscite amichevoli ma dobbiamo capire la sua affidabilità nel corso della stagione c'è infine andrea pinamonti che lo diamo per ceduto anche se poi ci sarà probabilmente un diritto di riacquisto più tutti gli altri satriano eccetera che però andranno valutati quindi in uno scenario così secondo me farsi scappare l'opportunità di andare a prendere a parametro zero un giocatore come di bala che ti può diventare una certezza per il tuo attacco comunque per i prossimi tre o quattro anni o eventualmente può diventare anche un altro giocatore da rivendere a 30 40 milioni di euro nel caso in cui dovesse fare subito una buona stagione con l'inter ecco mi sembrerebbe molto strano farselo scappare soprattutto alla luce del rapporto che c'è con marotta a questo aggiungo poi anche alcune piccole indicazioni tattiche che stanno emergendo dalle prime giornate di lavoro da piano gentile in vista nuova stagione io ve l'ho detto spesso ve l'ho raccontato spesso sapevamo e sappiamo che l'evoluzione molto probabilmente dell'inter di simoninzaghi nel prossimo futuro nel corso di questa stagione sarà verso il 3 4 1 2 o comunque in generale con almeno un giocatore che verrà collocato tra centrocampo e attacco a fare da raccordo con grande libertà di inventare e ecco io vedo tanti esperti allenatori dirigenti non solo che sui vari quotidiani e tanti opinionisti dicono che di bala si inserirebbe meglio in altre squadre nella roma nel milan nel qualsiasi altra squadra tranne l'inter vedo menzionata in questi discorsi in realtà a me sembra proprio che si stia costruendo l'abitat ideale per di bala nell'inter e quindi per tutti questi motivi allora io continuo a dire anzi ribadisco in questo momento che secondo me va fatto il possibile per prendere di di bala per portare di bala all'inter poi anche qui qualcuno potrebbe obiettare dicendo che sarebbe meglio concentrarsi su nuovi affari nuovi acquisti di calciatori più giovani calciatori pronti ad esplodere da valorizzare fare nuovi colpi alla lautaro martinez vai a prendere un giocatore prima ancora che esploda per valorizzarlo per avere un impatto subito e poi anche un giocatore di maggior valore nel futuro su questo sono anche d'accordo nel senso che anche per me la strada che l'inter deve intraprendere è proprio questa cioè andare a prendere i giocatori prima della loro esplosione farli crescere farli arrivare al livello top e poi eventualmente rivenderli visto che ad oggi ci sono altri club più ricchi che sono le mete finali di di molti calciatori però ecco visto il momento economico visto anche che questo tipo di colpo comunque in questa estate l'inter potrebbe averlo già fatto per esempio con aslani a centrocampo o potrebbe farlo con bremer in difesa io mi accontenterei tra virgolette di di prendere di bala in questo momento non so voi fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti se siete d'accordo con la mia con il mio discorso con la mia opinione adesso torneremo a discuterne perché il tema è molto caldo anche nel club di passione inter quindi sicuramente ne parleremo anche nel club di passione inter su passione inter punto club prima di salutarvi ci tengo a ricordarvi poi che per chi ci segue in podcast vi lascio in descrizione il link per recuperare l'analisi molto interessante a freddo del nostro simone frizza che ha colto degli spunti curiosi particolari da non perdere dall'amichevole contro il lugano e in vista della prossima amichevole contro il monaco consiglio ovviamente di ascoltarlo di recuperare questo contenuto quindi link in descrizione mentre per chi ci segue da youtube vi lascio il link qui vi basta cliccare mi raccomando cliccate e non perdetevi anche questo video ciao 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 ciao